Siamo in compagnia di Stefano Santarossa, dei Radicali Italiani. Leggiro subito la domanda del giorno che abbiamo proposto ai nostri telespettatori. Vi è l'articolo 18 per i neoassunti. Lei è d'accordo? Intanto lei è giovane, quindi forse non ricorda che nel 99 i Radicali hanno proposto, e si è votato poi nel 2000, per la rivoluzione liberale. Erano 20 referendum, della quale buona parte riguardava le riforme economiche che servivano e sarebbero servite per uscire dalla statica del sistema del lavoro italiano. Comprendevano anche l'abolizione dell'articolo 18. Purtroppo in quelle occasioni i liberali non ci ascoltarono e preferirono, Berlusconi in primis, di mandare la gente al mare, non si raggiunse il quorum in quel referendum. Perché volevamo riformare in questo senso il mercato del lavoro? Perché oggi, e oggi lo dimostrano i dati, il sistema italiano è formato da persone che sono assolutamente tutelate oltre ogni limite, quindi intoccabili, e non è possibile licenziare altri, invece che sono gli sfigati. Sono quelli con i contratti co-co-co, con le false partite IVA negli studi professionali, piuttosto che le altre forme di sfruttamento che esistono in Italia per i soggetti più deboli, cioè le donne e i giovani. Mentre all'estero c'è la possibilità per una persona di scegliere un contratto magari più vantaggioso economicamente, ma con meno diritti. Io accetto di guadagnare 10 mila euro al mese, ma rinuncio all'articolo 18. E le forme di contratti atipici valevano proprio, e sono valsi proprio per questo tipo di lavoratori. In Italia invece li hanno utilizzati in modo assurdo. Anche la stessa Italia è la patria dei contratti atipici. Sì, ma atipici, ma fuori legge rispetto al nome europeo. Noi volevamo rientrare nel mercato europeo, invece stiamo uscendo. Allora, la cosa incredibile, e nessuno lo sa, a proposito di mercato anche del lavoro e della scuola, è che lo Stato italiano ogni anno viola le regole dell'Unione Europea perché licenzia e riassume lo stesso dipendente una volta all'anno. Questo violando ogni tipo di regola fuori legge. Arriveranno adesso le sanzioni, quindi il Jobax, che poi è riforma del mercato del lavoro, è riforma delle scuole. Servono per rimettere questo Paese nel quadro europeo delle regole, del rispetto della legalità. Per questo servivano i referendum radicali e purtroppo ancora una volta forse ci si dirà fra qualche anno che avevamo ragione. Magari pensarci prima e sostenere il Partito Radicale, lo dico o non lo dico mai, 066826. Noi vi chiediamo i soldi per l'iscrizione perché non rubiamo come gli altri. L'iscrizione al Partito Radicale è un'assicurazione per la vita di tutti. Grazie a Stefano Santarossa dei Radicali italiani.